Tra tante persone che hanno un eccesso di latte, un eccesso rispetto al falbisogno del proprio bambino, che quindi si trovano a doverlo tirare e magari buttarlo via, ce n'è qualcuna che pensa a poterlo donare. E per noi è un elemento a volte anche salva vita. È questo l'appello che arriva dalla Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell'ospedale San Donato di Arezzo. Negli ultimi anni infatti le mamme donatrici sono diminuite, di conseguenza anche la disponibilità di latte umano. Diciamo che non c'è un'emergenza, c'è l'urgenza di sensibilizzare maggiormente, anche da parte di tutti noi operatori, perché abbiamo visto un calare progressivo e in questo momento abbiamo dovuto chiedere aiuto all'esterno. Se per il neonato sano il latte umano rappresenta il nutrimento ideale, per i nati pretermine da considerarsi come un vero supporto terapeutico. Nel nostro reparto sono tanti neonati prematuri, soprattutto in questo momento. L'appello che abbiamo fatto è quello di sensibilizzare, per sensibilizzare tutte le mamme all'importanza della donazione di latte. Questo perché magari donatori di sangue si può essere per una vita quasi intera, mentre donatori di latte sono pochi mesi. All'ospedale San Donato è presente una banca del latte umano donato che collabora in rete con le altri presenti nella regione toscana. È una zona dedicata alla raccolta, lavorazione e poi distribuzione del latte umano donato dalle mamme donatrici. Noi abbiamo un sistema che garantisce anche la raccolta a domicilio, o meglio, mi spiego. Le mamme raccolgono il latte a casa, lo congelano mettendolo in dei contenitori che noi forniamo, che sono sterili e vengono etichettati e poi passiamo con un servizio dedicato a domicilio per mantenimento della catena del freddo e ritiriamo il latte congelato. Il latte viene portato alla banca, qui viene pastorizzato e lo distribuiamo poi ai bambini che hanno bisogno durante il periodo di ricovero. La donazione di latte è semplice, ma come tutti i donatori sono selezionati. Per l'arruolamento serve un prelievo di sangue per vedere l'aspetto infettivologico dell'organismo e un questionario sullo stile di vita, come per tutti i donatori, donatori di sangue, di midollo, questo è il tipo di arruolamento. Dopodiché si inizia a donare il latte.